Bentornate a tutti a tutti a questa terza parte della seconda parte del corso sulle espressioni regolari e ci occupiamo appunto in questa terza parte di vedere qualche esempio in ordine sparso di espressioni regolari qualche esempio così che può avvicinarsi un po' più alla possibile pratica, implementazione, applicazione pratica di un'espressione regolare che non gli esempi specifici che abbiamo visto finora. Ecco, con il termine, con la fine della parte precedente del corso direi, almeno questa è la mia convinzione, che abbiamo passato lo scoglio più impegnativo, ovvero abbiamo visto uno per uno i mattoncini che compongono il linguaggio, il vocabolario del linguaggio, delle espressioni regolari e abbiamo appunto passato in rassegna tutti questi mattoncini e quindi è stata la parte sicuramente più dura, più teorica e anche più dura da spiegare per me di tutto il corso, secondo me, perché appunto vi mostrava cosa sono tutti questi simboli che possono sembrare strani di un'espressione regolare, a cosa servono le singole composizioni di questi simboli, per fare appunto i comandi che costituiscono il linguaggio delle espressioni regolari. A partire da questa parte, da questo video che state seguendo ora, sempre che siate ancora con me, che non vi siate già stancati o che non vi sia piaciuto finora quello che vi ho esposto, io spero di no, comunque ci sia ancora qualcuno in grado di seguire la continuazione di questo corso, speriamo, crocio le dita, dicevo ecco, passato lo scoglio, diciamolo alla collina, adesso secondo me possiamo andare anche un pochino in discesa, guarderemo in questa parte qualche esempio, faremo qualche considerazione e poi passeremo a, come dire, alla seconda parte di questo corso che è prettamente pratica, nella quale presenterò alcuni comandi che usano le espressioni regolari a nostra disposizione. Ecco, allora, partiamo con questi esempi quindi. Il primo esempio, quindi questi esempi sono un po', dico in ordine sparso, perché così come lo trovate in giro in rete gli spunti per questi esempi, o li ho trovati già preconfezionati o un po' li ho composti io, comunque non hanno un senso logico, un filo logico, sono così degli esempi che ho raccolto, ho messo lì in questa scaletta, avendone trovati abbastanza per creare un video, così ho deciso di creare questo video separatamente dagli altri con questi esempi, così ecco. Per esempio, il primo esempio l'ho intitolato parole palindrome. Come saprete, le parole palindrome sono quelle che possono essere lette indifferentemente da sinistra verso destra, da destra verso sinistra. Gli esempi, per esempio, per esempio, insomma, scusate il gioco di parole, l'ennesimo, ava, kayak, o tetto, oppure ovattavo, che non so se esiste effettivamente come parola, però ovattavo è comunque una parola palindrome, tecnicamente parlando. Non essendo così frequenti, le parole palindrome, sicuramente nel testo, qui è il nostro testo campione della licenza GPL del software open source, dura a trovarne, ho messo questi esempi, li ho copiati dentro nel testo, li vedete qui, li ho riportati qui, pronti per l'esempio. Allora, qual è lo scopo di questo esercizio? Trovare, mettere in evidenza come risultato del filtro dell'espressione regolare, praticamente da 1 fino a 3 caratteri alla sinistra, rispettivamente alla destra, di questo insieme di lettere, V, Y, E e WT. In poche parole, il risultato dovrebbe essere, trovare gli stessi caratteri a sinistra e a destra, da 1 fino a 3 caratteri, dovrebbe essere appunto una parola palindroma, perché parto dal centro con una lettera e a sinistra e a destra devo trovarmi un gruppo da 1 a 3 caratteri uguali, quindi automaticamente risulta la cosa come palindroma. Allora, l'espressione regolare è questa, vedete che è un po' più lunga di quella che abbiamo usato finora, faccio coppia e incolla e vedete che automaticamente qua sono messe in evidenza le parole palindrome che avevo preparato qui per l'esempio, vedete, AVA, CAIACO, TETTO, O VATTATO, O VATTAVO, ecco. E vediamo un po' di interpretare un attimino questo esempio, perché far semplicemente copia e incolla non è che serva un granché in un corso sulle espressioni regolari, eh? Quindi, cosa dico qua? Dico di il primo barra rovesciata B, il comando, cattura solo l'occorrenza a partire dall'inizio di una parola, ovvero da inizio riga o da un separatore di parole precedenti che è poi la punteggiatura praticamente, no? Quindi questo obbliga l'espressione regolare a isolare una parola praticamente. Quindi, vedete, o inizio riga o che ci sia una virgola, uno spazio qua in mezzo, insomma, queste sono tutte parole isolate, singole, e non che inizi, che ne so, qua in mezzo, ecco, non che inizi in mezzo qui o qui, più che vado a cercarmi delle situazioni palindrome artificiali in mezzo ad altre parole, ma deve essere proprio un inizio di parola. Quindi il primo comando qui ci garantisce che non ci sia, tra virgolette, nulla, non un carattere stampabile davanti, ma che inizi la parola come noi correntemente ci immaginiamo, con uno spazio, per esempio, o inizio riga, ecco, o a fine riga. Voilà. Poi, questo comando, parentesi, tonda, barra, w, e punto interrogativo, è un gruppo opzionale di caratteri qualsiasi. Sappiamo che il comando, barra rovesciata, w, minuscolo, riconosce tutti i caratteri, a parte quelli accentati, che è, lo sappiamo dal primo video, comunque, vabbè, riconosce tutti i caratteri indifferentemente, quindi con un semplice comando così includiamo tutto l'alfabeto, maiuscolo, minuscolo, quello che è. Ci siamo creati, con le parentesi tonde, il gruppo, eh? Il gruppo, e il punto di domanda, cosa dice? Che questo gruppo, sappiamo che il punto di domanda influisce sull'elemento che precede, e in questo caso non è un singolo carattere, ma è un gruppo, quindi, parentesi, tonda, chiusa parentesi, tonda, diventa opzionale, quindi può o può non esserci, scusate, può o può non esserci questo gruppo di caratteri come inizio di parola. Ecco, successivamente, scusate, parola, col w word, a volte mi confondo, non sono stato proprio preciso, e non essendoci il quantificatore, cioè non essendoci un quantificatore tipo, che so, il più, non essendoci questo quantificatore, il w sta per una posizione, è un carattere, quindi mi scuso di non essere stato preciso nell'interpretazione, l'ho anche scritto, è il bello che qui nella scaletta, se poi, come ogni tanto mi accade, la scrivo, ma poi non la seguo perfettamente, poi mi confondo, di un carattere, perché non c'è un quantificatore, quindi questo gruppo è composto da questo comando, che sta per la posizione di un carattere, qualsiasi, quindi maiuscolo, minuscolo, quello che vogliamo, ma uno, e questo un carattere, questo gruppo di un carattere, è opzionale. Seguito dallo stessa disposizione di comandi, punto di domanda, e un altro carattere opzionale, e da uno non opzionale, quindi sempre un gruppo di un carattere, questa volta però deve esserci almeno uno. Ecco perché nella descrizione dell'esercizio ho scritto da uno fino a tre carattere a sinistra, rispettivamente a destra, perché da uno fino a tre caratteri? Perché uno non è opzionale, deve esserci. Le due posizioni precedenti, quindi questa e rispettivamente questa, sono opzionali, quindi possono, ma possono anche non esserci. Voilà. E poi cosa manca da interpretare? Ecco il TT, qua. Questo gruppo TT è opzionale, quindi ho creato un ulteriore gruppo con la doppia T, perché ho detto che in mezzo alla parola palindroma viene composta con il centro della parola palindroma con la doppia T, oppure una E, oppure una Y, oppure una V, quindi in questo caso è stato creato un ulteriore gruppo della doppia T, che è opzionale, quindi non è detto che debbano esserci, o ci sono o non ci sono le due T, seguito da un gruppo di ricerca di caratteri singoli, questa volta, o la V, o la Y, o la E, in questa posizione, pure essi opzionali. Chiaramente li ho messi entrambi opzionali, questi due insiemi di ricerca, queste due parti del filtro, perché posso cercare parole che abbiano in mezzo le doppia T, oppure una V, oppure una Y, oppure una E, quindi deve essere tutto opzionale, può esserci o può non esserci, ovviamente. E poi, terminata, diciamo, la composizione del corpo principale del filtro dell'espressione regolare, quindi abbiamo detto che deve essere una parola isolata, composta da 1 a 3 caratteri sulla sinistra, in centro, opzionalmente, due T di fila, oppure una V, una Y, una E, tutto opzionale, e poi sfrutto il riferimento ai gruppi, e attenzione che i gruppi, abbiamo detto che sono indicizzati da 1 fino all'infinito di quanti ci sono da sinistra verso destra, quindi qui c'è un gruppo, il primo, 1, indice 2, questo, indice 3, questo, quindi i tre caratteri che stanno alla sinistra sono i tre indici di gruppo, e cosa faccio? Cerca, invertendo l'ordine dei gruppi, ovviamente, perché dovendo essere palindroma la parola deve essere esattamente speculare rispetto al centro della parola, quindi i tre gruppi 1, 2, 3, li devo cercare alla fine della parola come 3, 2, 1, per invertire l'ordine dei gruppi, quindi cosa succede? Prendiamo per esempio la parola otetto, otetto ha una E in mezzo, questa qua, a sinistra O, T, T, a destra T, T, O, quindi speculare, e questo la rende palindroma, e in effetti vediamo che rispetta la nostra espressione regolare, perché è una parola isolata, otetto, in questo caso ha tre caratteri, quindi opzionali, ma ci sono, O, T, T, in mezzo c'è una E, quindi non ci sono le due TT al centro, ma c'è la E che è questa, e sulla destra i tre gruppi O, T, T, invertiti, T, T, O, e vedete otetto, rispettivamente, che ne so, kayak, kayak c'è la Y in mezzo, quindi il nucleo della parola è questa, Y in mezzo, ha solo due lettere a sinistra e a destra, quindi questa opzionale è opzionale, quindi non dà fastidio l'espressione regolare, ne considera due, rispettivamente i due gruppi sulla destra, eccetera, eccetera, quindi vedete che è un bel esempio di filtro che ci cerca, che ci può cercare in un testo, questi tipi di parole palindrome, ovvero non è generico per tutte le parole palindrome, ma solo per questo insieme, con queste lettere in mezzo, bisognerebbe ampliare, per esempio, il nucleo delle parole, per ampliare la possibilità di filtrare tutte altre combinazioni di parole palindrome, però vi dà una traccia di cosa vuol dire, con un'espressione regolare, per comporla in modo che filtri le parole palindrome, e questo non è male, poi quindi cancelliamo questo esempio, Il secondo esempio mostra l'utilizzo dei gruppi per un determinato scopo, che in questo caso, l'utilizzo dei gruppi per che cosa? Per catturare tutte le stringhe, ovvero le parti di testo, che siano incluse fra apici singoli, o fra virgolette. Ecco, questa qui è più corta, come espressione regolare, però è interessante anch'essa, perché cosa fa questa espressione regolare? Cerca tutte le stringhe che partono con un apice semplice, tipo questo, gnu, spazio gpl, poi si chiude con un altro corrispondente apice singolo, oppure tipo questo, general, che parte con le virgolette doppie, e si chiude a un certo punto con le virgolette doppie. Addirittura qui ho messo la parola license con le virgolette doppie al di fuori, gli apicetti singoli, gli apici singoli all'interno, e vedete che li filtra, il filtro li riconosce. Qui ho messo due parole senza spazio in mezzo, una inclusa fra apici, virgolette, e una fra apici singoli, vedete che le riconosce una dietro l'altra, sono due corrispondenze separate, perché sono due parole contornate, racchiuse fra apici differenti. Non so se ce ne sono altre, vediamo un po', ecco qua, modificate, qui c'è una D, ecco qui, vedete la D che funge da apostrofo, però c'è anche la possibilità che fa da 100, e lui, naturalmente l'espressione regolare non può saperlo, la interpreta come se fosse una parola fra due apici, anche qui, poi queste sono impossibilità, vedete, tutto ciò che inizia e si chiude con un apice, indifferentemente dalla situazione, ovviamente è, l'espressione regolare è, tra virgolette, intelligente, ma non fino a questo punto. Ecco, rinuncia al copyright invece al senso, tra virgolette, e appunto questa semplice, un'apparenza, espressione regolare, è abbastanza potente, riconosce, estrapola dal testo queste situazioni, come fa? C'è un gruppo iniziale, chiuso fra parentesi tonde, con dentro un'alternanza, ovvero, gli si dice, nella prima posizione che cerchi, nel tuo testo, guarda che può essere, o un apice singolo, oppure, ecco qui il simbolo di alternanza, or, l'apice doppio, quindi la prima posizione, questo gruppo, mi definisce che in prima posizione, posso, è valido che ci sia, un apice singolo, un apice doppio, poi, il puntino, sappiamo che il puntino, significa qualsiasi carattere, eh, qualsiasi carattere, il puntino, quindi, eh, dobbiamo avere, come, come stringa, da filtrare, un inizio, con uno di questi due caratteri, seguito, da qualsiasi carattere, con il quantificatore più, il quantificatore più, significa, uno, o più, occorrenze, di ciò che precede, e ciò che precede, è il puntino, quindi, una, o più, caratteri qualsiasi, a seguire, e, vediamo qui, nelle spiegazioni, dell'esempio, ok, il gruppo, indice gruppo 1, quello che ho appena spiegato, il gruppo qua, poi, abbiamo, questo insieme, che dice, cattura uno o più caratteri, considerando, però, attenzione, il minor numero di caratteri possibili, perché, a seguire il quantificatore più, c'è il punto di domanda, che qui, funge, da, eh, riduttore d'effetto, del quantificatore, diciamo, perché, sappiamo, che il quantificatore, per difetto, è, avido, quindi, tende, a, selezionare nel filtro, il più, il numero maggiore di caratteri possibile, in realtà, con il più, gli diciamo, no, fermati al minor numero di caratteri possibili, quindi, diciamo, considera un qualsiasi carattere, che sia numero, lettera, maiuscola, minuscola, spazi, tutto quello che vuoi tu, e, con il più, considera di, quanti ne vuoi, ma, attenzione, ti metto anche il punto di domanda, per limitarti al minimo indispensabile, e, fin qui va bene, e, cosa dico, che se non ci fosse il punto di domanda, catturerebbe anche i caratteri fra un'occorrenza e l'altra, appunto, catturerebbe anche tutti i caratteri fra un'occorrenza e l'altra, quindi, se noi togliamo il punto di domanda, vedete qui cosa succede, per esempio, su una stessa riga, rimetto il punto di domanda, che forse, qui dove ho il mouse, rimetto il punto di domanda, vedete che mi, mi isola, i termini, racchiusi fra gli apici, o le virgolette, se tolgo il punto di domanda, il quantificatore più diventa avido, e, prosegue nel catturare, l'occorrenza, su una stessa riga, fino a che non trova il prossimo apice, o virgolette, da considerare, quindi, vedete, diventa avido, mi prende troppa roba, a me non sta bene così, quindi gli dico, limitati, limitati, e con i punti di domanda, il più diventa pigro, e non più avido, e si ferma, alla chiusura, dell'espressione regolare, ovvero, alla referenza, al gruppo 1, quindi, la bag reference, si applica la corrispondenza, qui del gruppo 1, e quindi, dice, chiudi, quello che devi mettere, in evidenza del filtro, chiudilo, appena trovi, la corrispondenza, del carattere, che hai trovato all'inizio, praticamente, quindi l'apice singolo, o la virgoletta, ed ecco che, apre, chiude, con lo stesso carattere, e in mezzo, evidenzia tutto quanto trova, perché sono tutti caratteri, con il quantificatore, quindi, da 1 a più, e voilà, che li ha trovati, non è male, anche questa, piccola espressione regolare, però potente anche lei, andiamo avanti, cattura termini fra gruppi, cattura i termini fra gruppi, di termini speculare, ecco, questo, vabbè, sono proprio esempi, anche in parte, un po' ripetitivi, che appunto, io raccolto nel tempo, eh, mentre preparavo il materiale del corso, sono passati anche delle settimane, e poi qui mi ritrovo anche degli esempi che, adesso che sto seguendo passo passo le scalette, mi accorgo che alcuni sono anche ripetitivi, se vogliamo, però, male non fa, qui ho un esempio, cosa vuol dire, fra, catturare i termini fra gruppi, di termini speculari, ovvero, ecco, ho creato un esempio apposta, perché se no, vedete che l'ha catturato, è un esempio artificiale, non è, come dire, testo normale, perché non è così facile trovare queste situazioni, però, didatticamente parlando, cosa mi ha cercato? A maiuscolo, A maiuscolo, D, sulla sinistra, sulla destra, specularmente c'è D, A maiuscolo, A maiuscolo, un po' come le parole palindrome, in mezzo c'è una parola fissa, Pippo, separata dagli spazi, da questi due gruppi speculari, di caratteri, come è strutturata, che questa espressione è regolare, vediamo che ho creato un gruppo, quindi parentesi tonde, dentro questo gruppo, c'è la ricerca di un intervallo di caratteri, che vanno dalla A maiuscola alla D maiuscola, quindi A, B, C, D maiuscoli, in una quantità di due, quindi devono esserci o due A, o due B, o due C, o due D maiuscole, poi ho creato un altro gruppo, con una ricerca di lettere minuscole, fra la A e la D, quindi A, B, C, D, e questo non è specificato, un quantitativo preciso, basta che ci sia una posizione, che ricordiamoci che questo gruppo, occupa una posizione, che segue queste due posizioni, del primo gruppo, quindi vedete che già qui, A maiuscola fino a due, due A maiuscole, poi a seguire una posizione, che può essere una A, una B, una C, una D minuscola, in effetti qui c'ho la D minuscola, poi uno spazio, poi la parola Pippo, poi un altro spazio, e sempre sfruttando i gruppi, li inverto per rendere speculare i primi due gruppi, quindi ci sarà il gruppo 2, che è quello della lettera minuscola, la D, e il gruppo 1, che è quello delle due lettere maiuscole, A. Ecco qua, quindi tutto qui, quindi non so, faccio C, vedete che appena cambio una lettera, già non mi trovo più, però se rimetto la C qui, me la ritrovo, perché A è D, l'intervallo delle lettere, nelle lettere maiuscole, vediamo un po', no scusate, ecco, vedete, anche qui c'è l'intervallo, che devono essere due lettere, di questo intervallo, due lettere, o duplicata, o comunque, che sono contenute fra A e D, ho messo AB, ABC, C a B e P poi in mezzo, vedete che continuo a trovare questa corrispondenza, e così, questo è un esempio ancora, per far vedere come si usano i gruppi, i quantificatori, e i gruppi, e gli intervalli di lettere, questi sono un po' messi assieme, vari mattoncini di quello che abbiamo visto nei video precedenti, ecco, forse più che il senso dell'esempio in quanto tale, questo mostra bene come poi possono essere composti vari elementi della sintassi, dell'espressione regolare che noi abbiamo visto singolarmente nei video precedenti, qui vedete che ce ne sono già uno, i gruppi, due, gli intervalli di lettere, con le parentesi quadre, tre, i quantificatori precisi con le parentesi graffe, quindi tutti i tipi di parentesi usati, e, vabbè, le stringhe normali di ricerca fisse, e i riferimenti ai gruppi, quindi ci sono vari elementi che sono composti, vi concorre una volta come i mattoncini dell'ego, sono composti per ottenere il nostro risultato, in questo caso per ottenere questa corrispondenza. Non male, questo è un esempio, forse ecco, il valore aggiunto è un po' quello, mostrare appunto che i vari mattoncini vanno composti, per trovare quanto ci serve.